Allora Andrea Luperini, non ha vittoria consecutiva in campionato, certo non si può fare il 30 su 30 dell'anno scorso, però una bella soddisfazione. Sì, è una soddisfazione enorme diciamo, anche perché non è facile neanche tenere sempre sveglio e vivo il morale, nonostante tutti gli impegni che abbiamo, sia di campionato che di Coppa. Nove partite vinte di fila, insomma, è un bel bottino e ci ha portato a questo risultato di avere parecchi punti di vantaggio sulla seconda classifica. Ecco, una partita difficile su un campo che la palla praticamente viaggiava lentamente, si bloccava proprio nel fango, la squadra è riuscita comunque a portare a casa tre punti importanti, visti anche i risultati del Castelnuovo che ha perso a Quarrata. Sì, ma se noi siamo abituati sinceramente a guardare poco cosa fanno gli altri, ma a guardarci noi, finché continuiamo così a fare i risultati noi, poi alla fine siamo solo noi che possiamo danneggiarci in questo momento. Quindi l'impegno di Coppa ci porterà via sostanze ed energia, ma abbiamo anche un buon margine di vantaggio sulla seconda in classifica e quindi cercheremo di amministrarlo nella miglior maniera possibile. Anche perché abbiamo in Rosa un gruppo di giocatori importanti, basti pensare che oggi erano in panchina sia Balestri che Garbini che, non mi ricordo che Tamberi, sì. E quindi insomma abbiamo le sostituzioni, abbiamo i giovani bravi, quindi non vedo il motivo di preoccupazione per affrontare una gara di Coppa e portare avanti ancora il campionato. Ecco, in Coppa di questo Meldola cosa si sa? Meldola è una squadra in questo momento credo abbastanza giovane, anche perché fino a dicembre aveva in Rosa diversi giocatori importanti, poi per varie vicissitudini sembra di quanto si legge, più che altro perché si sente, non si vede, si legge e basta. Ha dovuto rinunciare a qualche ragazzo di più spessore, ma sicuramente è una squadra che farà votare le scatole anche a noi, anche perché in classifica mi sembra terzo e ha vinto anche contro la Verna. Quindi penso sia una squadra ostica da affrontare, la affronteremo in casa su un campo che sicuramente non sarà nelle migliori condizioni, ma siamo consapevoli che per noi è una gara importante, forse è questo punto più importante di quella di oggi, ma siamo pronti per affrontarla.